Una controversia con il comune di Modica che non ha provveduto ancora alla viabilità alternativa, una questione che si trascina da tempo e che è stata discussa anche in prefettura e che ora rischia seriamente di compromettere i lavori per la realizzazione dell'autostrada che da Siracusa deve arrivare a Gela, passando per Ragusa. Cantiere chiuso sulla Modica Mare all'altezza dell'incrocio per Contrada Zappulla. L'attraversamento del cavalcavia è bloccato e questo problema va a sommarsi a quelli della rimozione dei cavi dell'alta tensione e dei pali della luce ad Ispica, oltre a quello dell'area amoresca dove è nato un contenzioso per l'esproprio del terreno. Così l'impresa che sta realizzando i tre lotti della Rosolini Modica annuncia che da domani, se non ci saranno novità e se non arriveranno soluzioni, tutti i cantieri si fermeranno non solo mettendo a rischio la realizzazione dell'importante infrastruttura, ma anche 400 posti di lavoro, motivo per il quale la CGL ha subito chiesto al prefetto Librizi di convocare un tavolo tecnico.